Signori, buongiorno, sono le 5.45 e io e Sabrina stiamo per andare a vedere Nusa Penida e guardate l'alba balinese. Oggi abbiamo anticipato il gallo che si vede ogni mattina. Esatto, il gallo ti abbiamo battuto noi oggi. Il traffico che c'è alle 6 di mattina. Dopo 40 minuti di macchina siamo arrivati al porto da dove si parte per il tour a Nusa Penida. Guardate che bel sole mattutino, ha come cominciare bene la giornata. Chissà se oggi vedremo le mante, ragazzi. Dobbiamo vederle. Appena passato il check-in del biglietto, si va ad imbarcarsi nella nostra speedboat. È tutto nuovo il porto, guarda, è una roba assurda, accuratissima. Ci sono 10.000 persone che ci lavorano. Si esce dal porto, ragazzi. Siamo arrivati a Nusa Penida, questo è il porto. Adesso da qua parte la nostra esperienza di tour. Dovrebbe esserci qualcuno che ci aspetta per portarci in giro qui, ma non ne siamo poi così sicuri. No. Comunque guardate l'acqua, è bellissima. E' bellissima esperienza, è bellissima. Sono venuti a prenderci al porto dopo 10 minuti che aspettavamo, perché non c'era nessuno. Quindi poi in realtà non sembrava troppo sul test, ho detto. E' presto, è presto. Ci siamo portati in questo cappannone dove ci siamo fatto il check-in. E adesso ci siamo presi le pinne per andare a fare dopo il snorkeling con le mante che nuoterà un veloce. Il sale. Cominciamo con le note negative del tour. Hai detto un sito, quattro persone. E' già così. Cioè, siamo già strettissimi. Non c'è altro, devi metterli con i cinesi che sono un metro e 60, non con noi e sto tipo che è un metro e 95. Madonna raga, la vista dell'uncia appenita del vulcano del Monte Battura. Siamo partiti ragazzi. Mi scanna. Siamo arrivati al primo stop. Qua andiamo a fare snorkeling e forse ci vedranno le mante. Forse è il tipo detto. Non posso garantirvi che ci siano le mante, perché manta è animal. È animal. Ah, questa volta niente matte. Purtroppo è la giornata sbagliata. Però cerchiamo di goderci la giornata lo stesso, dai. Prima spot è andato ragazzi. Raga, ciò che mi mancava è la mia princesa qua. Terzo occhio. Niente matte. Era anche parecchia corrente in acqua. L'acqua era puletissima, c'era qualche pesce. Ho visto un pesce palla. Qualche pescione gigante, tipo un mega dentice, però... Non le mante. Non le mante e noi eravamo qua solo per questo. Il secondo spot era veramente a tre minuti di barca da dove si è lasciata all'inizio. E' questa bella spiaggita qua. Come ha detto che qua c'è molto pesce, quindi andiamo a vedere. Due pesce. C'erano tanti pesci di barriera. Abbiamo visto pesci palestra, pesci farfalla, pesci angelo. Ho visto uno giallo lungo lungo. Non saprei dirti il nome. Deve essere un boccaglio. Forse era quello. Era quello giallo lungo lungo. Si va verso il terzo stop, ragazzi. L'ultima volta dal secondo al primo secondo ci abbiamo messo tipo 5 secondi. Adesso meno. Praticamente lo possiamo vedere là dentro quella spiaggia. Adesso andiamo qua. Questa zona è chiamata Coral Bay. Ci sono anche qua pesci, barriere coralline da vedere. Comunque questa Coral Bay deve essere molto molto popolare perché è foderato di barca. E' strafiga perché c'è il male di pesce. Cioè abbiamo visto un sacco di specie differenti che non avevamo trovato prima. Acqua pulita. L'unica roba è che ci sono tantissime barche anche qua corrente. Ma pesci palla, morene. Abbiamo trovato aguglie gigantesche. Ce n'erano sia gialle che color azzurro normale. Poi ci sono questi pesci con un naso tutto lunghetto e simpatico. Visto che hanno il nasino e non sappiamo come si chiamano, li chiamiamo i Tomasini noi. Com'è il mio nasino. I Tomaselli. Ma la roba più figa è che era pieno, ma pieno di aragoste. Sono riuscito a prendergli anche un baffo. Volevo provare a prenderne una mani nuda dentro la tana. Sono le 10 esatte. Siamo arrivati al quarto e ultimo posto dello snorkeling. Anche qua ci hanno promesso pesce grosso e coraggio. Questo era il quarto spot. Sono le 10 e un quarto. Abbiamo fatto un quarto d'ora di snorkeling veloce. E adesso iniziano gli spot in cui si gira a piedi. Ci hanno dato asciugamano e doccia. E dopo adesso ci porteranno a fare il trekking, credo. Uh ragazzi, abbiamo una novità per voi. Esatto. Visto che moltissimi ci state chiedendo consigli di viaggio. E noi stiamo cercando di rispondere a tutti, ma non abbiamo tantissimo tempo. Abbiamo pensato di creare un servizio apposta per voi. Vi programmiamo direttamente tutto il viaggio. Ci dite solo dove volete andare, quando, quanto volete spendere. E ci pensiamo noi a prenotare tutto per voi. Escluso il volo, perché quello rimane a far vostro. Se vi interessa mandateci un messaggio su Instagram o una mail. Ci trovate qui. E avanti col video. Ci stiamo andando al primo stop in auto dopo lo snorkeling che è Kekin Glimbic. Stiamo andando al viewpoint famosissimo di Nusa Penida. Cioè se prima le strade erano vuote, qua inizia ad esserci gente. Tutti i turistoni come noi. Poi c'erano un sacco di baracchini dei locali che ti vendono cappelli gelati, acqua. Andiamo, andiamo a vedere. Questo è il classico posto da aspettative versus realtà. Guardate quanta gente. Eccoci qua allo spot famoso di Nusa Penida. Andare giù a piedi è molto lunga. C'è una scalinata di 600 gradini e passa. E poi non c'è ombra in spiaggia e non si nuota. Ci hanno detto. Quindi penso che staremo qua. Nel flore andare, 45 minuti a tornare. Ed è foderato di persone. La realtà. Ed è foderato di persone. Ed è foderato di persone. Ed è foderato di persone. Potevamo scegliere da parecchie cose, avevamo una porzione di cibo e un drink gratuito Abbiamo preso la sabria, una banana juice, io ho un papaya juice E guardate che razza di bei noodles con il muretto e la verdura Incluso nel tour che è costato 45 euro A testa, sì, perché ho trattato un po', se non era un partito da 60 Siamo a metà giornata Ecco, stavamo andando alla spiaggia, ma la tipa davanti a noi Cioè, ma è accaduto in una maniera stupidissima Cioè, doveva spostare il suo scooter e andare un po' più avanti Oh my god, oh yeah Oh, it's completely gone Dopo un pranzo buonissimo, a base di fried noodles per entrambi Con un uvetto fritto e anche un dolcetto con banana split e gelato voluto dalla Sabri Lei si è presa quella fritta, neanche split Siamo arrivati alla nostra seconda spiaggia, che è la Broken Beach Esatto Tutto è rotto qui, perché la strada per venire è completamente dissestata Era come stare sul Tagadà Quindi Broken Road E arrivando una ragazza si è scapotata da ferma in scooter e si è aperta al ginocchio Quindi Broken Girl Broken Girl, Broken Ginocchio e Broken Street Ma questa soprattutto è la Broken Beach, ragazzi Sinistra Broken Beach, a destra Angels Billabong Angels Billabong Anche quello è un punto da vedere Andiamo prima Angels Billabong, sembra più vicino Questa è Angel Billabong, ragazzi È un paradiso naturale, però un pochino tanto over crowded Pino di gente Ma comunque è molto bello Andiamo a vedere l'Angel Billabong dall'altro lato Che bello il mare azzurro Ecco qua la mia baby Sabri Guardate dietro di lei cosa sta succedendo Mega casino, il nostro pilota ci diceva Quando c'è bel casino di marea Arrivano fino sopra quella roccia là Sì sì, l'onda arriva a schizzare fin là sopra ogni tanto Angels Billabong Adesso si va a vedere la Broken Beach finalmente Finora abbiamo visto solo altre cose Broken Questa ragazzi è la vista di Broken Beach Praticamente è questa vista spettacolare Dove poco fa abbiamo visto una tartaruga laggiù È la vista della spiaggia Qui si accede solo in barca da là per nuotare Se no ci sono solamente rocce molto taglienti E non c'è modo di accedere Comunque guardate l'acqua È grazia di spettacolo Veramente magnifico Molto bello da vedere Ma guardate quante persone Questo è il livello superiore del marito Instagram Oh bravo Eh la bellezza naturale di questi posti qua non è uguali comunque Adesso vi porto a vedere la vista qua dal bordo della collina Senza rischiare di svolare Porca vacca Qua si va a strapiovo ragazzi Noi stamattina eravamo in una barca tipo a quelle Il primo stop che abbiamo fatto era proprio qua A cercare di vedere le molotte Ma ovviamente senza riuscirci Perché c'erano già troppe barche Io mi diverto da morire a vedere le coppie Che tipo si fanno fotografare da questi poveri ragazzi Che sono i driver di solito del tour E si impegnano veramente tanto alcuni a fare pose A prepararsi Poi se scivolano un metro più laggiù C'è solo strapiovo E si finisce dritti in mare Mamma mia questa qua stava per scivolare Infatti ha deciso di sedersi in ginocchio L'abbiamo vista andare indietro E poi ha avuto un infarto Questo è il pezzo più bello della strada Questa è la Broken Street E in realtà stiamo andando pienissimo Si si sta andando un passo d'uomo Però è così Se andassimo veloci esploderemo Raga guardate sta signora Che cazzo sto facendo Che strafanna Abbiamo appena preso i biglietti del ritorno per Bali E adesso si partirà da Nusa Penida alle 4 In barchetta Grazie molto per tutto Grazie molto per il tuo piatto Grazie molto per il tuo piatto Lo vedevi che era tutto infigattato Orecchini, tatuaggi, isolano Ma ci ha detto che ha fatto i combattimenti tra galli Correva come un pazzo Quando ha avuto l'occasione Ha iniziato a accelerare Ha iniziato a fare rally in giro alle stradine Dove non ci stavano due macchine Esatto figo Quindi vi consigliamo Nusa Penida Day Tours Ci verranno anche a prendere al porto E ci porteranno a casa nostra Tutto incluso per 850 mila rupie a testa Che sono circa 50 euro a testa Poco di più Sicuramente si può fare la stessa identica cosa Organizzandovi da voi Ogni singolo passaggio Con questo pacchetto avevamo tutto Dovevamo solo portarci i costume Asciugamano Ed eccoci qui Anche questa fatta L'ultima tappa Bali sullo sfondo Ci stiamo per tornare Speriamo solo che non parta una tempesta A caso da là Che ci affonda Appena smontati dalla barca Siamo di nuovo a Bali Al porto di Sanur Adesso il ragazzo di stamattina Dovrebbe venire a prenderci E portarci di nuovo al nostro alloggio Questo ragazzi è stato il nostro one day trip A Nusa Perida Che come vi avevamo già detto Ci ha costato 45 euro a testa È un'esperienza che ci è piaciuta tantissimo E che vi consigliamo di fare Ma ricordatevi di scegliere un giorno In cui il mare è calmo In modo di avere più possibilità Di vedere queste benedette mante A Nusa Perida ci sono molte altre spiagge da vedere Che possono essere carine Ma se volete farlo Vi consigliamo di stare sull'isola Almeno due giorni e una notte In modo di avere più tempo Inoltre potreste anche fare Qualche attività di sub Dato che ci sono molti spot Molto profondi E dove c'è una marea di pesce Quindi potrebbe essere molto interessante per voi Sia che siate neofiti o molto esperti Ricordatevi di iscrivervi al nostro canale Perché abbiamo moltissimi altri video In servo per voi Non solo su Bali Ma su praticamente tutto E sull'est asiatico Presto arriveranno molti video Voi mi raccomando Lasciate un pollice Che ci serve molto per l'algoritmo E ci vediamo al prossimo video Ciao